ok iniziamo inspirando in arca la colonna a braccia aperte e ispirando in curva inspira in arca e ispira in curva prendi aria qui e fuori aria qui stendi le gambe e piega le ginocchia continua ancora il movimento è fluido dolce ancora 3 2 1 ora gambe divaricate braccia aperte flessione a sinistra sblocco il braccio destro sblocco le ginocchia circonduzione torno e continuo flessione a destra sblocco il braccio circonduzione e allineo cambio lato alterna lato destro e sinistro ancora 15 secondi anche qui i movimenti sono molto dolci non andare veloce ne facciamo un altro l'ultimo ora inspirando e levo le braccia espirando e scendo inspiro cresco con le braccia e spiro e scendo spalle basse gambe leggermente piegate inspiro salgo bene completamente butto fuori e scendo palmi verso l'alto salgo palmi verso il basso e scendo ancora 15 secondi siamo a 10 secondi continuo ancora 3 2 1 ora roll down testa giù mento verso il petto articolo la colonna verso il basso tocco le mani a terra a gambe tese incrocia gli avambracci testa giù ed inizia ad ondeggiare lentamente verso destra e sinistra a gambe tese respiro e se voglio chiudo gli occhi ancora 10 secondi ancora 3 2 1 ora a ginocchia piegate torna piano piano in posizione retta ora inspiro cresco con le braccia espirando piego le ginocchia e scendo ancora inspiro ed espiro prendo aria qui fuori aria e in curvo la schiena ancora su e scendo fuori aria scendo prendo aria e salgo continua 3 2 1 ora a ginocchia piegate mani sulle spalle torsione controllata verso destra e sinistra mantenendo la schiena la schiena la schiena la schiena la schiena dritta e le ginocchia piegate fuori aria nella torsione prendo aria e torno continua ancora 15 secondi siamo a 10 secondi ancora qualche secondo e siamo a 3 2 1 ora salgo con le braccia da qui il braccio sinistro scende il corpo lo segue risalgo ora scende il destro inclinazione laterale risalgo e continuo quindi prima scende il braccio poi il corpo risalgo e cambio lato ancora continua siamo a 10 secondi ora ancora 3 2 1 rilasso ora due circonduzioni indietro con le spalle intreccia le dita inspira apri il petto espirando e scendo a braccia tese piega le ginocchia e risali ancora due circonduzioni mani incrociate petto aperto scendi frontalmente piega le ginocchia e risali sciogli due circonduzioni incrocia le dita scendi a gambe tese piega le ginocchia e risali 21 da qui eleva le braccia flessione in avanti estendendo la gamba destra braccia aperte torna ed eleva le braccia stessa gamba scendi a braccia aperte eleva le braccia e risali quando scendi le anche sono sulla stessa linea scendi e risali sempre lentamente controllando l'equilibrio tramite la contrazione addominale e la respirazione scendo butto fuori risalgo prendo aria continua ancora qualche secondo 3 2 1 ora movimento simile eleva il ginocchio destro fletti il busto a gamba tesa dietro sali ancora ginocchio su scendi a gamba tesa inspirando sali espirando scendi ancora sali braccia su ginocchio su scendi braccia aperta e gamba tesa ancora 5 secondi 3 2 1 cambiamo gamba ora eleva le braccia flessione in avanti estendendo la gamba sinistra braccia aperte torna ed eleva le braccia stessa gamba scendi a braccia aperte eleva le braccia e risali scendi e risali sempre lentamente scendendo butto fuori risalgo e prendo aria ancora scendo quando risalgo appoggio la punta del piede a terra e ricomincio ancora 5 secondi 3 2 1 ora come prima stesso esercizio salgo con le braccia sale il ginocchio fletto al busto estendo la gamba ancora salgono le braccia e il ginocchio scendo a gamba tesa continua scendi e risali anche qui sempre lentamente espirando scendi 3 2 1 recupera e lentamente ci sediamo a terra a ginocchia piegate 3 2 1 mani dietro le cosce inspira e in arca la schiena ispirando mento verso il petto concentrati sul movimento della colonna in arco spalle basse in curvo mento verso il petto prendo aria qui fuori aria qui prendo aria spalle basse fuori aria in curva la schiena movimento dolce ancora qualche secondo 3 2 1 ferma il movimento ora ci sdraiamo sulla schiena mano destra sul capo gamba destra flessa appoggio la mano sinistra sulla coscia da qui estendo braccio e gamba torno e appoggio la testa a terra risalgo e continuo quindi estendo braccio gamba torno appoggio il capo e risalgo ancora estendo tocco appoggio e risalgo continua sempre stessa gamba stessa gamba e stesso braccio stendo tocco appoggio e risalgo ancora 20 secondi continua ancora 10 secondi ancora 5 secondi ancora 3 2 1 ora dall'altra parte gamba sinistra flessa con la mano appoggiata e stendi braccio e gamba torno appoggio la testa risalgo e stendo torno appoggio il capo e ripeto quindi sali e stendi braccio e gamba tocca scendi con il capo e risali continuo ancora 30 secondi estendi bene tocca scendi con il capo e risali movimenti dolci ancora 15 secondi siamo a 10 secondi ancora 3 2 1 ok ora sciogli raggiungi la posizione seduta gambe tese piedi in flex inspiro cresco espirando mi abbandono in avanti ancora cresco espiro piedi estesi mani sulle cosce cresco ancora ancora scendo salgo appoggio le mani sulle cosce salgo scendo piedi in flex risalgo piedi estesi tocca le cosce cresco ancora continua stiamo a 10 secondi continuo ancora 3 2 1 ora braccio in apertura espirando torsione inspira e torna e cambia lato la schiena resta sempre dritta i piedi sono in flex e le gambe restano tese la torsione è lenta e regolata dalla respirazione fuori aria nella torsione prendo aria e continuo ancora 3 2 1 ora in torsione scendo con la mano al lato esterno del piede tre molleggi risalgo e cambio alterno i tre molleggi sul lato esterno del piede destro e sinistro scendo 1 2 3 molleggi risalgo e cambio 1 2 3 risalgo e cambio i tre molleggi sono effettuati a schiena dritta non incurvo la schiena mentre molleggio 2 1 ok e recupera e passa schiena a terra 3 2 1 da qui gambe a tavolino spalle su estendi braccia e gambe cerchio con le braccia e tocca le ginocchia ancora estendo e tocca le ginocchia ancora nell'estensione delle braccia pensa di voler togliere un cappello dalla testa quindi con l'estensione delle braccia fai scorrere le mani ai lati delle orecchie ancora estendo cerchio ginocchia ancora estendo cerchio ginocchia stiamo a 10 secondi ancora estendo cerchio e tocco ancora a 3 2 1 ora appoggia solo le punte dei piedi a terra da qui avvicino il viso al ginocchio sinistro torno e il destro ad ogni crunch riappoggia sempre la testa a terra e poi risali i piedi appoggiano a terra sempre e solamente con le punte espirando e levi la gamba inspirando torni continua ancora 3 2 1 ok sciogli ora torsione controllata toccando gomito e ginocchio opposto torna e cambialato la gamba opposta la torsione è tesa addome contratto l'ombelico che spinge verso il tappeto e ispirando torsione inspirando cambio lato alterno il tocco del ginocchio destro e sinistro i movimenti sono dolci 3 2 1 recupera 20 secondi e preparati in posizione seduta sui talloni 3 2 1 posizione plank ginocchia i piedi a terra push up salgo in plank e tocco la spalla destra e sinistra ancora appoggio scendo risalgo plank destra e sinistra continuo così ancora 10 secondi 3 2 1 rilassa e passa in posizione seduta sui talloni inspirando torna in posizione prona ancora sediti espirando schiena rilassata inspira e torna pancia a terra continua con un movimento fluido e armonico fuori aria mi siedo sui talloni prendo aria e vado pancia a terra ancora continua ancora 3 2 1 ora passa in posizione plank su gomiti apri lateralmente una gamba e poi l'altra toccando la punta del piede a terra fuori dal tappeto apri sempre a gamba tesa apri destra apri sinistra tocco punta e tocco punta tocco a terra la punta del piede destro e sinistro dalla posizione plank su gomiti addome teso e braccia forti ancora 3 2 1 recupera e preparati in posizione seduta sui talloni ancora 3 2 1 posizione plank tocco il collo del piede a terra alternando gamba destra e sinistra corpo linea glutei contratti e gambe tese braccia tese la schiena è dritta alterno il tocco del collo del piede destro e sinistro in maniera alternata tocco 1 e tocco 2 continua ancora 3 2 1 rilasso ora posizione seduta una circonduzione spalle indietro inspirando eleva le braccia scendi mani incrociate petto aperto e ancora circonduzione indietro eleva le braccia espirando scendo e incrocio ok da qui raggiungo la posizione plank gambe tese e alterno il tocco del tallone destro e sinistro con la punta del piede opposto quindi a gambe tese tocco un tallone poi l'altro mantengo l'addome attivo la schiena è dritta e le mani ben radicate a terra ancora 3 2 1 recupera e preparati in posizione seduta gambe incrociate 3 2 1 braccialini a spalle torsione del tronco e avvicina la spalla all'anca opposta espirando torsione inspirando cambia nella torsione pensa di simulare una sorta di inchino torsione da un lato torno braccia in linea torsione dall'altro torno e continuo alternando torsione destra e sinistra ancora 3 2 1 ora cambio l'incrocio delle gambe una pianta del piede in appoggio sulla coscia e l'altra vicino al gluteo flessione da un lato e dall'altro sul lato in cui ha il ginocchio in avanti appoggia bene l'avambraccio a terra dall'altra parte tocca il piede indietro questo esercizio permette una maggior flessione laterale della colonna alterna flessione destra e sinistra ancora 3 2 1 ok cambio lato la gamba che era davanti passa dietro e viceversa stesso movimento di flessione destra e sinistra anche qui fuori aria e fletti il busto lateralmente appoggiando il gomito a terra sul lato in cui ha il ginocchio avanti dall'altro lato appoggi il gomito sul tallone del piede dietro continua ancora qualche secondo ancora 3 2 1 ferma il movimento passa gambe incrociate da qui flessione a sinistra appoggiando l'avambraccio e torna sempre stesso lato scendi e risali quando scendi sul lato cerca di staccare il meno possibile il gluteo destro da terra continua ancora 15 secondi ancora qualche secondo ancora 3 2 1 cambiamo lato ora flessione a destra appoggiando l'avambraccio e torna quindi scendo appoggio appoggio e risalgo scendo appoggio l'avambraccio e allineo scendo sempre anche qui dallo stesso lato scendi e butta fuori risali e prendi aria anche qui quando scendi cerca di non staccare o di staccare il meno possibile il gluteo sinistro dal tappeto 3 2 1 ok recupera e preparati in posizione seduta sul fianco destro piede sinistro davanti al destro 3 2 1 inspiro il corpo sale braccia in linea e scendo inspiro espiro e salgo torno e prendo aria il ginocchio destro destro resta in appoggio a terra anche quando sali il corpo in linea quando sali addome sempre in contrazione spalle basse e movimenti puliti ancora 15 secondi sali e scendi sali tieni un attimo e riscendi 3 2 1 ora sdraiati sul fianco gambe unite e flesse mani dietro la testa espirando salgo e scendo salgo e scendo a ginocchia unite esegui l'esercizio lentamente quindi sali piano e scendi piano sali piccola trattenuta giusto un secondo e scendo ancora 10 secondi ancora 3 2 1 ora torno in posizione seduta a ginocchia unite salgo torsione controllata al braccio mi segue torno allineo e mi siedo ancora su allineo torsione braccio sotto il fianco allineo e mi siedo spalle basse sempre lontane dalle orecchie vai lentamente salgo torsione controllata lentamente torno e ora mi siedo 3 2 1 ci sdraiamo sul fianco mano sinistra in appoggio braccio destro esteso sotto il capo solleva insieme braccio destro gambe isometria 23 secondi scendi gambe tese sia quando stali sia quando scendi fuori aria ti sollevi prendi aria quando rilassi ancora su tiene un attimo e scendi su tiene un attimo e ora scendi ancora cinque secondi 3 2 1 recupera ora faremo tutto dall'altro lato quindi preparati in posizione seduta sul fianco sinistro piede destro davanti al sinistro 3 2 1 espiro il corpo sale braccio in linea e scendo inspiro espiro e salgo torno e prendo aria il ginocchio anche qui sinistro resta in appoggio a terra anche quando sali addome sempre contratto spalle basse e movimenti puliti quindi salgo allineo e scendo continua ancora qualche secondo ancora 3 2 1 ora sdraiati sul fianco gambe unite e flesse mani dietro la testa espirando salgo e scendo salgo e scendo a ginocchia unite anche qui esegui l'esercizio lentamente quindi sali piano e scendi piano sali piccola trattenuta e scendi ancora 10 secondi continua 5 secondi 3 2 1 rilasso torno in posizione seduta a ginocchia unite da qui salgo torsione controllata al braccio mi segue torno allineo e mi siedo ancora su allineo torsione allineo e mi siedo su torsione controllata allineo di nuovo e giù le spalle sono basse sempre lontane dalle orecchie lentamente salgo torsione torno e mi siedo ci sdraiamo sul fianco mano destra davanti braccio sinistro esteso solleva insieme anche qui braccio e gambe scendi sali isometria 2 secondi e scendi isometria 2 3 secondi e scendi gambe tese sia quando sali se quando scendi fuori aria sali scendi e prendi aria ancora sali tieni e scendi sali e scendi 3 2 1 ok recupera e raggiungiamo la posizione supina 3 2 1 da qui stendi le braccia la gamba destra sali ginocchio destro al petto e torna espirando sali inspirando torna piede destro sempre in estensione piede sinistro ben posizionato a terra la schiena è perfettamente adesa al tappeto grazie alla contrazione addominale e alla respirazione qui prendo aria e qui fuori aria prendo aria e fuori aria quindi prendo aria schiena a terra fuori aria col ginocchio al petto ancora 3 2 1 cambiamo la gamba sali e torna sali e torna stesso movimento dall'altro lato il piede destro è ben posizionato a terra la schiena anche qui è adesa al tappeto e non si solleva quando stendo la gamba se si dovesse sollevare scendi meno a gamba tesa quindi salgo e scendo meno con la gamba salgo e scendo meno continua 3 2 1 recupera ora passiamo in posizione sdraiata sul fianco sinistro in appoggio sull'avambraccio 3 2 1 sali con il corpo mano dietro il capo scendo salgo poi tocco gomito ginocchio e ripeto scendo salgo gomito ginocchio quando scendo appoggia bene l'anca terra addome contratto e gambe sempre unite quindi gomito ginocchio appoggio risalgo ancora gomito ginocchio appoggio e risalgo continua ancora 5 secondi 3 2 1 e recupera cambiamo lato ci posizioniamo sul fianco destro 3 2 1 sali sempre mano dietro la testa scendo salgo gomito ginocchio torno e ancora scendo salgo gomito ginocchio e allineo scendo e salgo appoggiando bene la parte esterna del gluteo a terra continuo gambe sempre tese quando salgo e scendo addome contratto ancora 10 secondi scendo salgo gomito ginocchio ancora 3 2 1 rilassa recupera e preparati in posizione seduta sui talloni 3 2 1 posizione plank ora avvicina il ginocchio al petto alternando destro e sinistro spingi bene con la punta del piede per avvicinare il ginocchio al petto la testa segue il movimento del corpo incurvo bene la schiena la testa mi segue e torno mi chiudo incurvo bene e torno mi chiudo incurvo e torno siamo a 10 secondi ancora qualche secondo 3 2 1 ok benissimo recuperiamo ci prepariamo alla la mobilizzazione allo stretching 3 2 1 passo in posizione quadrupedica espira in curva la schiena inspira e in arca prendi aria quando distendi l'addome e fuori aria quando contrai l'addome incurvi la schiena continua movimento fluido armonico 3 2 1 ferma il movimento ora porta il piede sinistro sotto il petto mani posizionate all'interno del piede sinistro bacino che spinge in avanti resto in posizione respiro 3 2 1 da qui stendo la gamba sinistra sposto il corpo indietro mi siedo sul tallone 3 2 1 cambio gamba ora il piede destro è posizionato sotto il petto mani posizionate all'interno del piede bacino che spinge in avanti respiro 3 2 1 da qui stendo la gamba destra sposto il corpo indietro mi siedo sul tallone respiro 3 2 1 recupera e piano piano preparati in posizione schiena terra 3 2 1 da qui a cavallo le gambe piedi in estensione e afferro le caviglie chiudo gli occhi e respiro 3 2 1 cambio l'accavallamento delle gambe afferro anche qui le caviglie mantengo la posizione di rilassamento chiudo gli occhi e respiro 3 2 1 ok ora lasciati cadere su un fianco 4 2 1 da qui apri una gamba e lentamente lascia cadere il corpo dall'altro lato apri l'altra gamba e continua 5 2 1 lentamente rotola sulla schiena da destra a sinistra e da sinistra a destra seguendo la gamba che si apre quindi apro la gamba vado sull'altro fianco unisco le gambe apro l'altra e continuo 3 2 1 ok torno recuperiamo e lentamente apri gli occhi e raggiunge la posizione di massima raccolta 3 2 1 piedi a 45 gradi ginocchia in apertura mani unite in preghiera e spingo con i gomiti verso le ginocchia resto in posizione e respiro 3 2 1 da qui lentamente mi alzo in piedi a ginocchia piegate incrocio le dita delle mani ed estendo le braccia in alto spingo bene con le mani verso l'alto schiena bene allungata e spalle basse respiro e resto in posizione 5 secondi 3 2 1 sciogli ora gambe ampiezza spalle inspiro ed espiro inspirando sollevo le braccia espirando e scendo ancora qui in arca la schiena e qui in curva in arca mento verso l'alto in curva bacino che spinge in avanti ancora su e ancora giù 3 2 1 benissimo e il tuo allenamento è terminato ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao